C'è una TV aperta alle iniziative delle chiese locali e delle missioni in terre lontane. C'è una TV coinvolta dalle storie quotidiane dei senza voce. C'è una TV sollecita verso i bisogni degli anziani, dei malati, degli emarginati. C'è una TV sensibile alle attività del volontariato e dell'associazionismo solidale. C'è una TV attenta alle vicende delle famiglie, dei giovani, della scuola, del lavoro. C'è una TV che parla al cuore di ognuno per diffondere la buona notizia e che cerca amici per condividere un percorso comune. Amici di Teledeon. Basta un piccolo gesto. Teledeon, la TV del cuore, perché ci piace comunicare per bene. Ben trovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione in apertura. Il nostro sommario con i principali titoli. Approvato il piano sociale regionale per il periodo 2013-2015 a disposizione dei comuni, 36 milioni di euro. Barletta ha inaugurato il nuovo reparto di evatologia prossimo al trapianto di midollo osseo. E a Barletta hanno protestato il sindaco di Canosa la salvia e il comitato B619 per la situazione dell'ospedale Canosino. Anche la BAT, monitorata dalla polizia stradale, al via all'operazione estate sicura. Calici di stelle, presentate a Bari le due tappe del Movimento Turismo del Vino, a Trani il 6 agosto e il 10 agosto a Copertino. Ancora ben trovati, con un gesto che a un solo precedente Papa Francesco ha firmato personalmente il tradizionale messaggio ai musulmani per la fine del Ramadan. E dal 1967, che dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, viene emesso questo tipo di testo. E finora, soltanto nel 1991, Giovanni Paolo II lo inviò personalmente. Quest'anno lo ha fatto anche Papa Bergoglio, che ha deciso di incentrarlo sul tema alla promozione del mutuo rispetto attraverso l'educazione. Rivolgendosi ai musulmani del mondo intero, il Pontificio afferma che il rispetto significa un atteggiamento di gentilezza verso le persone per cui nutriamo considerazione e stima. E mutuo significa che questo non è un processo a senso unico, ma qualcosa che si condivide da entrambe le parti. Applicando poi il principio del mutuo rispetto, in particolare tra cristiani e musulmani, Papa Francesco rileva che tutti siamo chiamati a rispettare la religione dell'altro, i suoi insegnamenti, simboli e valori, a manifestare uno speciale rispetto ai capi religiosi e ai luoghi di culto. E' di 36 milioni di euro la disponibilità immediata per i comuni per la prima annualità del piano sociale regionale 2013-2015. Altri 90 milioni saranno assegnati entro fine anno per infanzia e anziani. E' stato approvato nella giunta regionale di ieri 2 agosto il terzo piano regionale delle politiche sociali per il periodo 2013-2015. L'obiettivo del terzo piano regionale è il consolidamento del sistema di servizi sociali e sociosanitari a livello regionale. Tra le novità introdotte dal piano regionale appena approvato, l'implementazione degli obiettivi di servizio regionali. Tra tutti spicca l'introduzione di precisi obiettivi di servizio nell'area di contrasto alla povertà, con l'attivazione in ogni ambito territoriale di un punto di pronto intervento sociale, mensa sociale, alloggio d'emergenza per adulti senza fissa dimora, banco alimentare, sportello sociale. E con la regolamentazione dei contributi economici in casi di indigenza estrema per scongiurare clientele e sprechi. L'ematologia saluta Trani. Ora è a Barletta per completare il polo onco-ematologico. Ieri la cerimonia di inaugurazione, la presenza del presidente della regione, Nichi Vendola, l'assessore alla sanità gentile e il primario del reparto di ematologia, Pinuccio Tarantini. L'inaugurazione dell'unità operativa dell'ematologia di Barletta rappresenta il completamento del percorso diagnostico-terapeutico formato dall'oncologia medica, radioterapia, medicina nucleare e radioterapia metabolica inaugurata il 21 giugno scorso. Inoltre, a partire da settembre, sarà possibile effettuare anche il trapianto autologo di Midollo. Il reparto sarà già attivo dalla seconda metà del mese di agosto. Il 30 luglio, infatti, sono stati bloccati i ricoveri nel reparto di Trani per consentire le operazioni di trasferimento dei materiali dei pazienti attualmente presenti in reparto. Sentiamo in questa prima parte del servizio le dichiarazioni raccolte da Francesco Rossi, del governatore Vendola e dell'assessore Elena Gentile. È un giorno importante per tutto il territorio della BAT, perché oggi viene completato finalmente il polo oncologico presso l'ospedale di Barletta. Sì, è un giorno importante per la Puglia, che sta innalzando l'asticella della qualità nell'approccio a patologie complesse che costituiscono per noi uno dei punti prioritari nell'agenda non solo della programmazione ma dell'effettiva realizzazione dei servizi. Lo facciamo non solo per dare risposte ovviamente di qualità ai pazienti e alle pazienti di questo territorio, ma ci auguriamo di territori sempre più vasti, ma anche per incidere profondamente su un dato che appesantisce anche la capacità delle nostre aziende sanitarie di poter realizzare obiettivi ancora più ambiziosi. Penso alla mobilità passiva, penso alle risorse che la Puglia perde e che potrebbero essere efficacemente utilizzate per migliorare ancora di più le prestazioni più complessive. Insomma, una giornata importante che segue un'altra giornata altrettanto importante, quella che abbiamo vissuto insieme il 21 giugno. Barletta oggi diventa per davvero uno dei punti di eccellenza del sistema di approccio alle patologie oncologiche. Presidente, è un giorno importante non solo per questo territorio ma per la Puglia. Quelle eccellenze di cui si è parlato forse cominciano a concretizzarsi anche attraverso l'ospedale di Barletta. L'ospedale di Barletta sta diventando un croceria fondamentale della buona sanità. Abbiamo inaugurato reparti di eccellenza a ritmo continuo. Oggi inauguriamo l'onquematologia. Da settembre la possibilità di compiere qui tra pianti di midollo consentirà ulteriormente di abbattere quella realtà dei viaggi della speranza, della mobilità passiva che sono non soltanto un peso economico per la regione, sono soprattutto un peso in termini di disagio per le famiglie che devono cercare lontano quelle risposte che oggi cominciano a ricevere qui in Puglia. Per l'ospedale di Miccoli di Barletta è davvero un'escalation strabiliante. Ed ora invece è la volta del direttore generale della ASL della provincia Barletta Andrea Trani, Giovanni Gorgoni e del primario del reparto di ematologia, già sindaco di Trani, Pinuccio Tarantini. Direttore, quindi quando si parla di eccellenza nel territorio della medicina si voleva raggiungere questo obiettivo con fatica ma è stato voi raggiunto? Con fatica, al solito con testardagini. I tempi magari consentivano, ripeto, scelte magari di basso livello, però quando parliamo di patologia oncologica bisogna tentarle tutte e in qualunque maniera per riportarsi in casa pazienti che normalmente vanno fuori. Qualche giorno fa abbiamo dimesso il primo paziente di radioterapia metabolica che stava prendendo altre strade, grazie all'inaugurazione della notizia di stampa ha detto che anche in casa lo si può fare. Lo stesso discorso vale per i pazienti che hanno problematiche emolinfopatiche. Da oggi possiamo anche fare quella che ormai è terapia di routine in leucemia o linfomi che è il trapianto di midollo. Quindi su al settimo piano oggi completiamo l'offerta di ricovero. Fermo restando che per quel che riguarda patologie oncologiche la scelta assistenziale primaria rimane sempre quella della prevenzione dei corretti stili di vita e ci auguriamo sempre che in questi posti la gente ci venga il meno possibile, sempre ed esclusivamente come ultima spiaggia. La garanzia che non si debbano fare battaglie di campanile sulla salute dei cittadini è la presenza dell'ex sindaco di Trani nella veste sua primaria di responsabile del reparto. La mia veste è quella di ematologo e come medico specialista di questo tipo di cose non posso che sottoscrivere quello che il direttore generale ha detto. L'ospedale di Barletta è ormai un polo onco-ematologico assolutamente completo e avanzato e quindi la presenza dell'ematologia non è altro che la naturale chiusura di questo cerchio che ha il compito di offrire questo tipo di assistenza ai pazienti che hanno questo tipo di patologie. L'ospedale di Barletta fornisce oggi una qualità elevata e in assoluta sicurezza per i pazienti stessi che è il compito principale di chi amministra la sanità. Per quanto riguarda noi dal punto di vista più tecnico la possibilità di eseguire in questo ospedale i trapianti di midollo è una possibilità che attendevamo da tempo e io per questo voglio ringraziare tutti coloro che ce l'hanno permesso l'assessore Gentile e il direttore generale Gorgoni che offrono a questo territorio una possibilità che finora gli era negato. E poco prima della inaugurazione del nuovo reparto di ematologia a Barletta nei pressi dell'ingresso dell'ospedale Barlettano si sono avuti momenti di tensione per la protesta dei rappresentanti del comitato Canosino B619 che hanno denunciato la situazione precaria in cui versa la struttura ospedaliere della loro città dove ricordiamo c'è stata la chiusura del reparto di ginecologia a seguito dell'applicazione del piano di rientro della regione Puglia. È intervenuto sull'argomento il sindaco La Salvia presente appunto alla manifestazione il consigliere regionale Franco Pastore abbiamo riassunto le loro posizioni in questo servizio. Alla cerimonia di inaugurazione del nuovo reparto di ematologia dell'ospedale di Miccoli di Barletta erano presenti anche il sindaco di Canosa Ernesto La Salvia e alcuni rappresentanti del comitato spontaneo cittadino a difesa dell'ospedale di Canosa B619. C'è grande soddisfazione nel veder realizzato un nuovo reparto di ematologia dell'ospedale di Barletta detto il primo cittadino canosino perché finalmente nella nostra provincia sarà possibile fornire cure più adeguate e trattare col trapianto di midollo i malati ematologici. Non possiamo però non preoccuparci dice se d'altro canto accanto a questa grande struttura mancano strutture in grado di assistere adeguatamente le partorienti o di fornire le cure più semplici a pazienti affetti da malattie più frequenti. Dagli amministratori regionali e da Gorgoni ha continuato il sindaco La Salvia abbiamo ricevuto ulteriori rassicurazioni sulla costituzione di un percorso che porterà all'istituzione di un punto nascita preso all'ospedale di Canosa. Ciononostante restano aperti grandi interrogativi restano ancora un punto interrogativo la metà dei posti letto della media regionale ovvero è solo dell'1,62 per mille la disponibilità di posti letto reali per acuti sono disponibili quindi in totale solo 641 posti letto in tutta la provincia Abat a fronte dei 750 previsti. Se quindi ci consola sapere che malattie più gravi potranno essere curate al di miccoli continua La Salvia rimangono tutte le preoccupazioni per i malati di patologie più frequenti e meno gravi comunque previste dai criteri di ospedalizzazione pruo. Ancora una volta quindi si fanno le nozze con i fichi secchi aspettiamo che come promesso l'assessore Gentile venga a Canosa per descrivere quanto l'ASL abbia previsto di realizzare a Canosa finché sia fatta chiarezza. Mi dispiace che il presidente Vendola sia stato in qualche maniera infastidito dai rappresentanti del comitato ha aggiunto La Salvia perché non si aspettava che avrebbero manifestato in tale contesto la loro preoccupazione per il depauperamento che di fatto sta avvenendo al nosocomio Canosino. Chiedo scusa io dice La Salvia anche a nome del comitato se sono state utilizzate espressioni un po' forti certamente non condivisibili anche nei confronti dell'assessore Gentile frutto delle sfibranti preoccupazioni per le sorti del nostro ospedale. I ragazzi del comitato hanno poi a lungo potuto rappresentare le proprie perplessità Gorgoni conclude La Salvia qualcuno nel corso della manifestazione ha affermato che le proteste rischiano di alzare un muro che non ammettere a deroghe. Non abbiamo paura di fastidi conclude il sindaco La Salvia fastidi che si possono provocare ai potenti della terra quello che pretendiamo è che venga riconosciuto il sacrosanto diritto all'essere curati. Sull'argomento è intervenuto anche il consigliere regionale del gruppo misto PSI di Barletta Franco Pastore nell'esprimere soddisfazione per l'inaugurazione del reparto di ematologia Aldimiccoli che completa il polo onco-ematologico del nosocomio cittadino dice Pastore non posso nascondere il mio rammarico per l'ospedale di Canosa di Puglia per quanto sta accadendo fino a quando purtroppo non verrà realizzato il nuovo ospedale che vada a sostituire quello di Andria ubicato nel centro cittadino al di là della barriera ferroviaria la nostra provincia dice Pastore e tutto il suo territorio vivrà ancora una situazione di limbo in cui alcuni presidi ospedalieri sono stati soppressi vedimi Nervino Murge Spinazzola con Canosa in dismissione e con un'offerta di servizi sanitari territoriali che non decolla e che di certo non è all'altezza della domanda di sanità dei cittadini io capisco le proteste e le rimostranze dei canosini dice Pastore capisco che non colgano i vincoli del piano di riordino anche perché condivido pienamente con loro il giudizio negativo su come il nostro territorio sia stato considerato e trattato basti pensare ai posti letto inferiore alla media regionale nelle altre asle ma dobbiamo cercare di ragionare in termini di territorio e di sistema è stata ritrovata in buone condizioni la ragazzina romena di 14 anni scomparsa qualche giorno fa da San Severo in provincia di Foggia dove vive con la famiglia si sarebbe trattato di un allontanamento volontario secondo quanto dalle riferito dovuto a motivi sentimentali ma gli inquirenti della squadra mobile della questione di Foggia e del commissariato di San Severo stanno valutando e approfondendo le motivazioni del gesto in ogni caso la ragazzina sarebbe stata aiutata nella fuga da complici maggiorenni il centro antiviolenza di Andria riscoprirsi chiude battenti dal 5 agosto al primo settembre per ferie si legge in un comunicato diramato dal suo presidente Patrizia Lomuscio in questo periodo i nostri numeri non sono attivi non riceveremo al pubblico si invita chiunque ne abbia bisogno in questo periodo a contattare il 1522 o a rivolgersi ai servizi sociali del comune ai servizi ASL o alle forze dell'ordine mentre il dibattito sulla violenza si fa sempre più intenso mentre aumentano a dismisura i casi di femminicidio e le richieste di aiuto da parte di vittime di violenza nel territorio siamo costretti a sospendere momentaneamente i nostri servizi a causa delle estreme difficoltà legate all'assenza di risorse economiche nonché in attesa dell'esplettamento del bando provinciale continua ancora la presidente Lomuscio siamo consapevoli delle gravi conseguenze di tali sospensioni ma nel contempo siamo consapevoli di non poter e non voler più sostituirci all'opera di tutela che dovrebbe far capo alle istituzioni che invece investono poco sui servizi essenziali per la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone estate sicura anche la provincia Barletta Andrea Trani sarà monitorata costantemente dalla polizia stradale previsti i servizi di pattugliamento infatti nei prossimi giorni a partire da questo primo weekend di agosto per regolare i transiti a velocità adeguata ai tratti interessati ma soprattutto per il rispetto del codice della strada è cominciata la campagna di sicurezza stradale 2013 il territorio di Bari batte provincia meta di un notevole flusso turistico per attrattive balneari è oggetto di un'attenta vigilanza da parte della polizia stradale per garantire al massimo le condizioni di sicurezza la campagna estate 2013 vede il potenziamento delle pattuglie e dei controlli sulle principali arterie autostradali a 14 e a 16 gioia del colle baricanosa baricanosa candela e delle strade extraurbane in particolare è stata le 16 direzione sud baria pigio a torre a mare poligliano monopoli e bari nord tratto bisceglie barletta dove soprattutto durante i fine settimana si registra un numero significativo del transito veicolare verso località turistiche la campagna mira la prevenzione degli incidenti stradali molti dei quali dovuti a comportamenti non attenti e distratti dall'uso di telefoni cellulari o da musica ad alto volume in quest'ottica si svolgeranno servizi di pattugliamento per regolare i transiti a velocità adeguata ai tratti interessati l'utilizzo di autovelox e teleraser e tilometro fanno sapere dalla polizia stradale caratterizzeranno i molteplici controlli lungo le strade di collegamento con le località turistiche nei pressi soprattutto di discoteche ancora servizi mirati alla repressione di gravi violazioni come il superamento dei limiti di velocità e la guida in stato di alterazione psichica per superfacenti o alcol l'attenzione sarà rivolta anche a mezzi pesanti e autobus costringendo i conducenti al rispetto delle regole di guida come i tempi di riposo intenso anche il pattugliamento lungo i tratti autostradali e le aree di servizio con il contestuale impiego di personale in abiti civili al fine di prevenire e reprimere reati come scippi bosseggio e furti i servizi svolti in maniera sistematica garantiranno un effetto deterrente dice la polizia stradale il contenimento della incidentalità assicurando contestualmente un viaggio in sicurezza a tutti coloro che si accingono a percorrere le strade per una serena vacanza per ogni eventuale necessità sul territorio la polizia stradale è contattabile allo 080 5349 999 attivo 24 ore su 24 a Bari presso la sede della presidenza della regione Puglia la presentazione della quindicesima edizione di Calici di Stelle l'evento enogastronomico organizzato in tutta Italia dal movimento turismo del vino è reso possibile grazie al sostegno della regione Puglia assessorato alle risorse agroalimentari due gli appuntamenti che coinvolgeranno come ogni anno migliaia di residenti e turisti con degustazioni di vini e oli extravergine d'oliva di qualità iniziative culturali ma anche momenti di spettacolo martedì 6 agosto a Trani sabato 10 agosto a Copertino in entrambe le città i visitatori potranno degustare le etichette delle migliori cantine dalla Daunia al Salento visitare i principali monumenti e partecipare a mini corsi di degustazione Presidente quali sono le novità di Carici di Stelle di quest'anno Allora innanzitutto diciamo questo che Carici di Stelle è uno dei due eventi fondanti del movimento turismo del vino insieme a Cantina Aperte con Cantina Aperte le aziende appunto si aprono al pubblico quindi li accolgono nelle loro cantine con Carici di Stelle invece le aziende invadono insieme poi ai consumatori agli enoturisti agli appassionati invadono alcuni luoghi simbolo sono ormai da un paio di anni sono Trani dove ci sarà Carici di Stelle il 6 agosto e Copertino il 10 agosto questa è una cosa molto importante le aziende del movimento turismo del vino sono circa 50 credono nel rapporto produttivo con il territorio anche questo evento che mi pare che sia la quindicesima edizione lo abbiamo voluto ancora una volta promozionare perché raccontiamo grazie al nostro ambasciatore del mondo che è il vino ma anche grazie alle nostre bellezze mi riferisco alla cattedrale di Trani anche al diciamo al cospetto delle chiese di Copertino e quindi a tutta una serie di vocazioni e tradizioni che il nostro territorio mette a disposizione possiamo in qualche maniera raccontare che cosa è la nostra Puglia e questo evento lo raccontiamo mettendo a disposizione appunto il nostro vino i nostri oli i nostri prodotti una buona musica e poi con l'associazione del movimento del vino noi abbiamo questa attività molto fiorente che in qualche maniera mette nelle condizioni di raccontare sempre di più soprattutto i risultati di grande rilievo che il settore vitivinicolo continua a portare avanti e continua che ci permette anche di raccontare la Puglia in giro per il mondo Sindaco Trani si appresta ancora ad ospitare Calici di Stelle un appuntamento che negli anni ha accolto sempre decine di migliaia di spettatori di partecipanti sì infatti il mio messaggio è di bentornata alla manifestazione di Calici di Stelle con un ringraziamento alla regione per aver voluto confermare la tappa della città di Trani unitamente alla città di Copertino la data sarà quella del 6 agosto ma siamo felicissimi perché questo appuntamento che è inserito a pieno titolo nell'estate tranese conferma come veramente ci sia la possibilità di poter fare in assoluto un percorso enogastronomico di qualità perché non ci sarà solo buon vino ma ci sarà anche olio in un contesto architettonico storico naturalistico veramente meraviglioso quest'anno ci sarà qualche piccola novità nel cambiamento del percorso via Unisanti piazza Campo dei Longobardi ex piazza del pesce con una giustissima valorizzazione del Moscato di Trani tutta assolutamente meritata siamo molto felici perché riteniamo che queste manifestazioni al di là del valore singolo e individuale sono delle manifestazioni che nei fatti fanno crescere il turismo nelle nostre città e nella nostra regione in quelle notti in quelle sere c'è infatti il tutto esaurito anche presso gli alberghi bed and breakfast addirittura anche i ristoranti e quindi riteniamo che questo sia un modo indiretto per aiutare un'economia a crescere apertura ieri a Trani della festa patronale con la tradizionale serata di gala ai piedi della cattedrale per il conferimento delle benemerenze musica appunto benemerenze concorsi notte di note e notte di premi in particolare quelli riservati ai concorsi per i 950 anni degli statuti marittimi la serata ha visto salire sul palco i 5 nuovi benemeriti di Trani il sindaco della città riservato ha conferito quest'alta riconoscenza al Giannicola Sinisi già sindaco di Andrea Magistrato a Maddalena Cristiani in servizio presso il Ministero dell'Interno e all'Associazione Unitalzi nonché al Festival Il Giullare all'Istituto San Giuseppe diretto dalle suore salesiane dei Sacri Cuori di Trani l'assessore alla cultura Salvatore Nardò invece ha presentato i vincitori del concorso riservato agli studenti delle scuole di Trani dedicato agli statuti marittimi in palio per le scuole vincitrici dei premi in denaro quattro le categorie nella prima ricerca storica e giuridica ha vinto il liceo classico secondo e terzo posto al De Amicis nella seconda arti grafiche e visive ha vinto la scuola elementare d'annunzio seconda a Baldassare terza l'ISCosmae settore moda nella terza invece espressioni teatrali ha vinto lo scientifico secondo e terzo premio la media Bovio Palumbo nella quarta e ultima categoria dedicata al visual computer grafica si è cimentato solo uno studente del liceo scientifico il 16enne domenico bevi l'acqua che ha vinto uno stage lavorativo in una società di marketing e pubblicità il commento dell'assessore ai nostri microfoni scuole e ordini professionali coinvolte nei 950 anni degli ordinamenti a MARIS sicuramente un punto di partenza importante per questa cerimonia sicuramente lo abbiamo sempre sostenuto coinvolgere tutti i livelli cittadini quindi le scuole gli ordini professionali le associazioni era, è stato e rimane un obiettivo strategico un particolare riferimento merita nell'ambito degli ordini professionali che sono collegati al 950 anni degli statuti marittimi è il coinvolgimento dell'ordine degli architetti perché non è la prima questa è la prima occasione perché c'è stata recentemente anche la vicenda relativa a Trania Go Go si sta consolidando un rapporto importante assolutamente sì tra l'altro di oggi anche ha reso noto il sindaco una notizia che ci sarà anche un concorso di idee per la rifunzionalizzazione di via San Giorgio con l'ordine degli architetti un ordine professionale molto attivo molto partecipativo tra l'altro l'idea di realizzare un monumento del 950esimo era un'idea importante altrettanto importante quanto quella di rimettere a nuovo il monumento realizzato 50 anni o sono da Stefano Ibibò anzi oggi una bellissima notizia che il sindaco credo che renderà anche pubblica sul palco abbiamo ricevuto la telefonata della dottoressa Paola Ibibò la figlia di uno dei due artisti che hanno realizzato l'opera la quale ovviamente ci manifestava l'impossibilità da parte dell'artista di essere presente in quanto molto anziano che anche lei non poteva partecipare stasera ma che era molto soddisfatta di quanto fatto e che verrà appositamente a Trania a trovarci per visitare il monumento col padre con questo è tutto grazie per essere stati con noi vi do appuntamento con i prossimi aggiornamenti vi auguro buona domenica c'è una tv aperta alle iniziative delle chiese locali e delle missioni in terre lontane c'è una tv coinvolta dalle storie quotidiane e dei senza voce c'è una tv sollecita verso i bisogni degli anziani dei malati degli emarginati c'è una tv sensibile alle attività del volontariato e dell'associazionismo solidale c'è una tv attenta alle vicende delle famiglie dei giovani della scuola del lavoro c'è una tv che parla al cuore di ognuno per diffondere la buona notizia e che cerca amici per condividere un percorso comune amici di Teledeon basta un piccolo gesto Teledeon la tv del cuore perché ci piace comunicare per bene